In attesa dallo storico sbarco del Giro d'Italia Caravaggio, domenica 19 maggio sono stati i rider della BMX dare spettacolo. Sulle paraboliche del bike park del Caravaggio Overroad si è infatti disputata la terza prova del trofeo Regione Lombardia, a cui hanno preso parte oltre un centinaio di atleti dei 7 anni in su. Una giornata di gare mozzafiato che, per quanto non abbia visto il cancello di partenza big del movimento italiano come Cassanelli, Virdis, Giustacchini, Furlan, Cristofoli o l'infortunata Alice Madonna, ha permesso di tastare il polso alle giovani leve del vivaio Lombardo. Spettacolari soprattutto le batterie degli esordienti e degli allievi, dove in posti sono stati Luca Parolin, ciclomania racing e Mattia Pauciullo, della Caravaggio Overroad. Padroni di casa che hanno spadroneggiato anche tra i master, con le affermazioni di Zerboni, Rama, Douglas, Antonio Pauciullo ed Esther Gatti. Ma più dei risultati parlano le immagini, eccovi quindi alcuni frammenti della giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.